allora abbiamo provato possiamo dirlo oggi in tante occasioni a parlare con tomas comparato nel corso di questi due anni è sempre stato molto restivo ha sempre rinviato a risultato ottenuto per oggi finalmente qui con noi perché la carcarese possiamo dirlo è stata promossa in prima categoria è stata una partita bella tirata dicevamo forse rispetto alla vadese avete avuto un pizzico di lucidità in più soprattutto dietro siete stati sempre molto tranquilli molto ben organizzato abbiamo trovato finalmente l'occasione giusta per parlare dai l'unione di questa squadra parte dalla difesa passa dal centrocampo arriva fino all'attacco è un gruppo fantastico che la società e insieme al lavoro del mister si è riusciti a creare e si nota proprio la caracarecità di questa strada abbiamo cognato proprio un nuovo termine caracarecità che significa proprio l'appartenenza al paese forse è stata l'arma l'arma in più che che ci ha dato che ci ha dato la forza di trovare questa vittoria soprattutto non manca mai eravamo stupiti che non fosse ancora ancora avvenuto nulla però dicevamo che col mister in questa settimana è stato un crescendo continuano quando avete capito nel corso della stagione che potevate veramente dire la vostra fino alla fine beh è stato sicuramente un girone di ritorno coi fiocchi in cui la squadra ha inserito veramente la freccia di sorpasso diciamo perché abbiamo fatto un grandissimo girone di ritorno e poi quando si fa un girone così inizia a credere anche più in te stesso e siamo siamo riusciti a ottenere questo risultato via adesso si può iniziare a pensare un po anche alla prossima stagione ovviamente festeggiamenti al netto dei festeggiamenti che insomma penso che nei prossimi due tre giorni saranno piuttosto piuttosto intensi infatti spero di riuscire ad arrivare domani mattina perché qua i festeggiamenti sono già iniziati e per sì dai poi penseremo pian pianino anche al prossimo anno e niente dai per ora ci godiamo i festeggiamenti via